È stato domato dopo una lunga notte di lavoro il vasto incendio che dal primo pomeriggio di ieri ha interessato un'area verde situata nel territorio comunale di Pellezzano, nella frazione di Capezzano. Oltre ai vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore i volontari della protezione civile Santa Maria delle Grazie, i vigili urbani e gli operai dello SMA Campania. A complicare l'intervento, il forte vento che ha mosso le fiamme e dato origine ad altri roghi in diversi punti della zona interessata. Per tenere la situazione sotto controllo, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha disposto che fossero organizzati dei turni tra i volontari della protezione civile per monitorare l'incendio ed evitare che le fiamme potessero avvicinarsi alle abitazioni causando un pericolo anche per gli abitanti residenti. E anche questa mattina il lavoro di controllo dei focolai ha richiesto un attento e capillare monitoraggio da parte di tutti gli uomini impegnati. Sarà invece un'inchiesta molto probabilmente affidata ai carabinieri della forestale a chiarire le cause del ruogo che restano ancora non note.